Musica Partita la stagione concertistica del Colibri Ensemble, siamo con il direttore artistico Andrea Gallo per parlare proprio di questi eventi. Sì, abbiamo iniziato la nostra stagione a novembre all'Autorion Flaiano, ospitando due importanti musicisti, Daniela Eruzioni e Francesca Dego. Abbiamo poi proseguito con il primo dei nostri concerti da camera, il Trio Bettinelli, e ci apprezziamo ora a dicembre a effettuare il nostro classico evento natalizio presso l'Aurum, ospitando un quartetto di contrabbassi veramente eccezionale. Vogliamo un attimo parlare dei vostri eventi e cos'è il Colibri Ensemble? Il Colibri Ensemble è un'orchestra da camera che riesce a spaziare da un organico quasi cameristico di circa 10-15 elementi fino a raggiungere anche 40-50 elementi come abbiamo fatto nel concerto di apertura. Prende spunto da una favola per bambini, che è la favola del Colibri, che appunto vede nella partecipazione proprio l'ideale propulsivo per raggiungere grandi risultati. Per chi volesse saperne di più, per chi volesse partecipare ai vostri eventi, vogliamo dare qualche riferimento? Sì, è tutto scritto sia sul nostro sito che www.colibrienssemble.it, sia anche sui social, sulla pagina Facebook o l'account Twitter che abbiamo.